Una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Ecco, voi siete il sale della terra. Siate generosi, siate disponibili. Stiamo attraversando un momento difficile. Dobbiamo fare i conti con la crisi, è vero. Ma io credo che questa comunità abbia ancora tanto, tantissimo da poter donare e dare. Ma è proprio davanti a queste difficoltà che possiamo dare, che possiamo mostrare a chi siamo veramente, spogliarci di bani ipocrisie e rivelarci nella nostra vera essenza di uomini e di donne di fede. Non fatevi ingannare dal falso valore del denaro. L'amore per il prossimo, la ricchezza spirituale, questi sono i veri valori di cui abbiamo bisogno. Continuate ad aiutarvi senza chiedere nulla in cambio, come so che voi sapete fare benissimo. La ricompensa più grande che possiate ricevere è un sorriso, un abbraccio e il calore fraterno. E vi assicuro, ve lo sicuro con il mio cuore, che non è poco. non è poco. Eh madonna, che lunga che l'aurore. Sempre lì, sempre lì. Sempre lì, sempre lì. Amico... amico... non volete? No, non è niente. Non è niente. Non è niente. Questa è una chiesa, per voi poveri ci sono delle secezioni. Vai da lì. Ti prego! No, abbiamo tante spese. Vai, vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.